Siamo di nuovo nelle Marche, non è che abbia la mania delle Marche, ma il fatto è che qui a Cagli ci hanno invitato e noi l'abbiamo approfittato per svolgere una sorta di dimostrazione in una giornata di sole bella come questa. Guardate che zona meravigliosa, una delle poche zone a starne rimaste qui in Italia, qui siamo ospiti dell'azienda agroturistica Venatoria San Fiorano, a un passo da Cagli, quasi dentro il paese, però guardate che meraviglia, che bella cornice di montagne, ci vuoi tu che stai Siamo alle pendici dell'Appennino, quindi qui cacciamo sui 3-400 metri, 500 metri, che sono le colline marchigiane, proprio pre-Appenniniche, alle nostre spalle abbiamo il Nerone, il Catria e il Monte Petrano, il Monte Petrano è anche molto conosciuto perché a maggio si fanno delle gare di classiche, quindi sono ben frequentate, zona da caccia, zona da gare. Ecco, e fatevi riportare. Porta, brava, porta, brava, 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 va, apri, brava, brava. Ah sì, vi devi riportare pure l'altra perché sono cadute tutte e due. L'altra ferita. Adesso riportiamo, facciamoci riportare anche l'altra che è ferita. Vede, la cagna si rimette in cerca con il movimento proprio tipico del bracco italiano. La prima era fulminata, la seconda invece era ferita, quindi uno due e quella la tua. E poi ci sono altre due che adesso andiamo a ribattere. Questa era una piccola brigata di 5 unità e comunque all'interno di un semenzario di questo genere, bellissimo. Eccone un'altra, guardate mentre noi stiamo qui a farle chiacchiere, che meraviglia. Eh, ma questo è un terreno straordinario. Eccone un'altra, guardate mentre noi stiamo qui a farle chiacchiere.